Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi per duplicare auto di strada a ripetizione senza bypass ragazzi quindi guardate bene, non potete vendere auto di fila se il glitch del bypass funziona ancora ve lo farò sapere allora per fare questo glitch potete stare tranquillamente in una sessione solo in vidi avete bisogno di un amico e un'auto di strada ragazzi allora in alto a sinistra nel riquadro vedete che cosa fa il nostro amico e che cosa facciamo noi allora io intanto vi spiego che cosa fa il nostro amico il nostro amico deve entrare dentro il suo ceo, ovviamente dovete avere lo stesso ceo per poter fare questo glitch il nostro amico dovrà entrare dentro il suo ceo e avviare un'attività ragazzi, una qualunque attività della rockstar e quando sarà in questa schermata dovrà premere X per accettare ok insomma per avviare e freccia destra ragazzi per entrare dentro lo santo scassa ma o meglio dentro l'officio ovviamente non entrerà ma entrerà nella missione una volta fatto ciò quando il nostro amico sarà dentro l'attività come potrà uscire? uscirà insomma dovrà uscire dall'attività a questo punto respawnerà qui in questo punto dove siamo noi e dovremo passargli la macchina noi che dobbiamo fare il glitch dobbiamo passare l'auto al nostro amico che ci sta aiutando a questo punto lui senza muoversi appena respawnato dovrà salire in auto e gli comparirà la freccettina la freccettina per entrare dentro lo santo scassa ma dentro l'officina e accetterà questo messaggio insomma entrerà dentro l'officina con l'auto di strada e noi cosa dovremmo fare ragazzi? entrare nel nostro oceano insomma nel garage in cui stiamo facendo il glitch mentre il nostro amico quando si troverà dentro l'officina scenderà dal veicolo e non farà più un cazzo come guardate dal video invece noi andremo al veicolo che abbiamo al sesto posto e entriamo nell'officina non appena saremo comunque entrati nell'officina avremo un bug e ci troveremo l'auto del nostro amico nell'officina ragazzi non fate caso ai colori perché i video sono registrati in due tempi diversi comunque il glitch è questo una volta che siete in questa situazione dovete salire nell'auto che vi spawnerà nell'officina e la modificate tutta ovviamente perché altrimenti non serve a un cazzo avere un'auto così dentro l'officina modificate al massimo tutto mentre il vostro amico sarà lì a non fare nulla e rimarrà lì per tutto il tempo insomma e voi andate a modificare tutto quanto al massimo tutto quello che avete lo mettete al massimo non guardate una questione di gusti ma guardate il valore dopodiché mettete una targa personalizzata e il segnalatore ragazzi una volta messo il segnalatore l'auto sarà vostra dovete mettere comunque solamente il segnalatore uscite dall'officina e una volta usciti rientrate nell'officina quando siete rientrati nell'officina mettete una targa personalizzata e il segnalatore ragazzi allora questa auto andrà a rimpiazzare un posto vuoto quindi ogni volta che voi farete questo passaggio le auto andranno a rincazzare posti vuoti che voi avete in tutti i garage non solamente nel garage del ceo quindi questo glitch lo fate nel ceo però le auto andranno in qualunque posto vuoto voi abbiate in qualsiasi garage quindi è abbastanza semplice da fare non dovete fare grandi spostamenti l'unica è pulata ragazzi è quella che comunque non c'è il bypass dei 48 minuti quindi un po' un'inculata però comunque sia potete farlo abbastanza rapidamente come state vedendo io non è che ci sto impiegando molto tempo entro e esco dallo santos custom e metto una targa il segnalatore il glitch è fatto ragazzi penso di essermi spiegato abbastanza bene spero che il glitch e il video vi piacciano spero che possa essere utile a qualcuno che magari non ha auto lo rider da poter modificare e possa utilizzare questo glitch detto questo ragazzi io penso di aver detto tutto lasciate un cazzo di like che è gratuito insomma non fa mai male un bel like spero di portare anche il bypass dei 45 minuti un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti iscriviti al canale